L'opera Common History Vanitas è un esempio brillante dello stile iconico di Michael Craig Martin, che si distingue per la plasticità delle figure dalle linee marcate e dei colori solidi. L'uso audace dei colori vivaci enfatizza la presenza fisica dell'oggetto, facendolo emergere dalla tela. Accanto agli oggetti ordinari, protagonisti d'eccezione del vocabolario pittorico dell'artista, in questa composizione troviamo importanti riferimenti alla storia dell'arte, dalla pipa che richiama il celebre dipinto di Magritte ad opere fondamentali quali La Fontana di Duchamp e altri ready-made, a Painted Bronze dell'artista Jasper Jones, fino all'opera concettuale Enoch Tree, realizzata da Craig Martin nel 1973. Un omaggio all'indagine concettuale sulla natura dell'arte e del linguaggio e sul rapporto dialettico tra realtà, immagine e parola. Il tratto impersonale ed artificiale delle figure è ottenuto tramite l'applicazione di nastro adesivo. Questo stile neutrale è diventato la cifra distintiva della sua opera, che ci fa riconoscere subito un Craig Martin appena ne vediamo uno.